Inaugurata la sede della sezione Nissena dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia in Viale Trieste che riunisce tutte le fiamme gialle in servizio ed in concedo ma anche i soci simpatizzanti che condividono lo spirito di servire la collettività. Una sezione presieduta dal maresciallo Salvatore Giuffrida. Dopo tante vicissedutine siamo riusciti a costituirla perché bisogna organizzarsi in un gruppo di militari in concedo che nominano un commissario e quindi una presidenza, un consiglio direttivo e noi siamo riusciti dopo tante vicissedutine a istituirla. L'associazione ha lo scopo di aggregare, socializzare, quindi fra le varie associazioni militari, carabinieri, polizia e anche altri e quindi la socializzazione e possibilmente aiutare se possibile sul sociale. Gli iscritti sono 60, fra militari in concedo e dei civili simpatizzanti. Comunque io ci tengo a precisare che se sta nascendo questa sezione Ampi il merito è soprattutto del nostro presidente Giuffrida Salvatore il quale si è sacrificato e con un grande spirito di abbenegazione ce l'abbiamo fatta perché se non ci fosse stato lui sarebbe stato impossibile che nascesse a Cartanissetta la sezione Ampi. Lo dico veramente con il cuore. A precedere il taglio del nastro e l'inaugurazione della sede è il discorso del comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Ignazio Gibilaro accolto dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cartanissetta il colonnello Pierluigi Sozzo presenti tra gli altri numerose autorità civili e militari. Ecco che è importante questo legame tra passato e presente ecco che è importante l'apertura di una sezione Ampi perché in realtà chi ha indossato una divisa non cessa mai di sentirla intimamente indosso e intimamente vissuta. Forze di polizia, forze armate, tutori dell'ordine ad ampio spetto tutti coloro che indossano una divisa sanno che non è un lavoro comune il nostro è un servizio. Una sezione che è stata intitolata al brigadiere della Guardia di Finanza Santo Arena Mazzarinese morto il 16 luglio del 1943 a seguito delle ferite riportate durante lo sbarco degli americani a Gela. Di ricordare niente perché ho sei mesi quando è morto ricordo invece la fanciullezza, la mancanza del padre perché io a sette anni andrei a Loreto nel collegio che era stato fatto per gli orfani della Guardia di Finanza. Sono qui a rappresentare la comunità di Mazzarino che con orgoglio diciamo questa intitolazione ricorda la memoria e fa sì che anche le future generazioni possono ricordare i martiri perché Biedarena è stato un martire. Sono qui perché abbiamo seguito anche attraverso insieme proprio tutte le fasi che hanno portato a questa intitolazione e quindi mi fa piacere che mi abbiano invitato sono contento che la sede dell'Anfi di Caltanissetta venga intitolata a questo eroe di guerra che è un siciliano originario di Mazzarino quindi della provincia di Caltanissetta.